Indagini terminate, Ciamponi resta l'unico indagato e ora bisognerà capire se ci sarà il rinvio a giudizio o la richiesta di archiviazione. L'inchiesta è quella dell'appalto della ASL di Pescara per la gestione di residenze psichiatriche extraospedaliere. La gara, da 11 milioni di euro, era stata giudicata alla cooperativa alla rondine di Lanciano del consorzio SGS. A seguito del suicidio in carcere a vasto di Sabatino Trotta, soggetto chiave della vicenda, l'inchiesta si è sgonfiata. Cancellati dal registro degli indagati i componenti della commissione di gara Antonio Dincecco e Anna Rita Simoni, che però saranno chiamati a testimoniare. E con lo stralcio delle posizioni di Domenico Mattucci e Luigia Dolce, rispettivamente presidente e coordinatrice della cooperativa, i quali hanno deciso di collaborare e formalizzeranno il patteggiamento a due anni di reclusione, resta ora un unico indagato, il direttore generale dell'azienda sanitaria pescarese Vincenzo Ciamponi. Il reato contestato dai PM Benigni e Sciarretta è quello di corruzione, in quanto avrebbe asservito la funzione pubblica agli interessi privati di Mattucci e Dolce, sostengono gli inquirenti, per denaro e altre utilità. Mattucci infatti tramite la Dolce avrebbe consegnato un orologio prezioso e 8 mila euro a Trotta, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della ASL, il quale a sua volta gli avrebbe dati a Ciamponi, che ci avrebbe acquistato una Fiat 500. Quando Mattucci tira in ballo Ciamponi, quest'ultimo diramò un comunicato in cui rivendicava la legittimità della giudicazione dell'appalto, in quanto la gara era stata sottoposta a rigorosa e approfondita istruttoria da parte degli uffici competenti della ASL e di un legale esterno. Quattro giorni dopo, gara annullata dalla ASL, per gravi illeciti professionali e scritto nella delibera firmata da Ciamponi, in quanto la gara perseguiva interessi privati e non pubblici. Oltre alla questione che coinvolge il direttore generale, vi è poi il filone politico dell'inchiesta, per cui però non c'è alcun indagato. Trotta, che era anche un esponente di Fratelli d'Italia, si sarebbe recato a Roma, accompagnato dalla Dolce, viaggio questo confermato dalle intercettazioni, per consegnare 10.000 euro a uno dei vertici del partito, probabilmente un funzionario ministeriale, che però non è mai stato individuato, poiché mentre Trotta si ricava all'appuntamento, la Dolce era rimasta a passeggiare per le vie della capitale. Secondo l'accusa, Trotta stava tramando una scalata all'interno di Fratelli d'Italia, sponsorizzata dalla cooperativa lancianese da circa 700 dipendenti e 10.000 assistiti.